Otto mesi fa la tempesta Vaia che devastò 3.700 ettari di bosco nell'Alto Friuli, schiantando 700.000 metri cubi di legname. Qual è la situazione? Quali le prospettive per i nostri boschi? Ne parliamo con Rinaldo Comino, funzionario per la programmazione forestale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, quanto legname si è riusciti già a recuperare? 120.000 metri cubi portati completamente fuori, molti cantieri in corso per domande e istanze presentate per oltre 500.000 metri cubi. Con quanti sostegni? Sicuramente un fondo regionale molto importante che è stato attivato subito e adesso, che è finita questa prima fase, l'attivazione di un fondo dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il prezzo, c'è stato un crollo? Un crollo no, c'è stata certamente una contrazione che però si compensa con le maggiori quantità vendute. E si sta parlando di un portale del legno come c'è già da anni in Trentino Alto Adige, che cosa sarebbe? Un' collaborazione con la Camera di Commercio, un luogo dove domande e offerte si incrociano e dà evidenza dei prezzi e dei possibili impieghi del legname. Qual è la situazione fitosanitaria dei nostri boschi? Oggetto di monitoraggio, certamente l'abete rosso è una specie molto attenzionata in questo momento a causa di un insetto pericoloso che si chiama bostrico, il quale però evidentemente prolifererà sempre di più con questi cambiamenti climatici in corso. Quest'anno per il cinquantesimo anniversario di fondazione del Corpo Forestale regionale ci sarà un convegno dove appunto si parlerà di abete rosso. Sarà ancora l'essenza prediletta, preferita? Assolutamente no, nel senso che si parlerà di abete rosso e di un modo di gestire dei boschi in funzione anche di quelli che sono i cambiamenti climatici e comunque delle buone prospettive che il settore comunque continua assolutamente a mantenere.